Musica Ieri tre punti fondamentali conquistati in casa della Tina ma la testa è già al prossimo impegno casalingo contro la Ternana di scena al Massimino venerdì. Avremo poi la consueta rubrica dei più e i meno dopo Latina Catania. Quindi ci sposteremo in casa Palermo, grande entusiasmo anche in casa Rosa Nero dopo il successo contro il Genoa. Ascolteremo le parole, la soddisfazione del tecnico Beppe Iachini. Quindi parleremo di pallannuoto, in particolare di Orizzonte Catania, rossazzurre sconfitte con onore solo ai rigori dal Messina Water Polo in gara 2 dei playoff Scudetto. Questo è altro tra poco dopo la pubblicità. In primo piano come sempre il Catania, grande entusiasmo in casa rossa azzurra per il quarto successo consecutivo degli uomini di Dario Marcolin che ieri a Latina hanno messo in cassaforte altri tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Adesso la zona retrocessione è ancora più lontana ma ci racconta tutto nel prossimo servizio Antonio Costa. La pazza stagione del Catania continua a regalare emozioni e colpi di scena all'ambiente rossazzurro che di sicuro fino a qualche settimana fa non pensava di poter assistere ad un filotto di vittorie così importante messo a segno dalla squadra di Marcolin. Il successo di ieri inoltre è sembrato diverso da quelli precedenti perché ha manifestato non solo la forza tattica dell'unici sceso in campo ma anche e soprattutto la superiorità tecnica di un gruppo che adesso sembra aver cancellato di botto tutte le paure che si portava dietro già dalla scorsa stagione. Anche la partita di Latina è stata ricca di episodi ma stavolta il Catania ha dimostrato di voler vincere a tutti i costi anche dopo essere stato raggiunto su un pari che sarebbe stato decisamente stretto ai rossazzurri che prima dell'1-1 avevano fallito diverse occasioni per blindare quel gol messo a segno con grande personalità da maniero. Anche i padroni di casa hanno avuto le loro chance, è giusto riconoscerlo, ma nel computo totale la squadra di Marcolin ha creato molto di più dei pontini e quindi se fosse finita in parità il Catania avrebbe potuto recriminare con se stesso. Questa squadra per oggi pare davvero avere qualcosa in più di un mese fa e di certo non si tratta solo di mentalità ma soprattutto di condizione atletica, come si è notato anche a Latina dove i rossazzurri sembrano andare a velocità doppia rispetto agli avversari. Alla fine quindi il gol di Schaudone non è stato solo una liberazione ma anche una conferma di quello che si è visto sul campo, che ha regalato così al Catania il secondo successo esterno consecutivo. Adesso arriva la ternana e i rossazzurri dovranno fare di tutto per non fermarsi e continuare a vincere, rimandando qualsiasi velleità e volo pindarico a quello che potrebbe essere il momento della verità di fine campionato. La squadra di Tester per oggi pare davvero alla portata del Catania, che nel frattempo potrebbe anche recuperare Callaglio e Schiavi anche se perderà proprio il Schaudone per scuolifica, ma questo oggi non spaventa più Marcolin che avrà il compito di disegnare l'ennesima formazione d'assalto per andare in cerca di una nuova vittoria. Torna la consueta rubrica dei più e i meno della settimana dopo Latina-Catania, segno più per Schaudone, Rosina, Coppola e Gile, segno meno invece per Sauro. Sentiamo Daniele Di Frangia. In casa Catania ci si gode il momento positivo dopo il successo al Francioni di Latina, le quattro vittorie consecutive hanno dato respiro alla classifica e adesso Marcolin può disporre di quasi tutta la rosa al completo. Segno più per Manuel Coppola, il centrocampista romano è proprio l'ultimo rientro dell'organico rosso-azzurro, Marcolin lo posiziona come mezzala ed il giocatore dà quantità ed equilibrio alla mediana etnea, un rientro importante. Segno più anche per Jean-François Gillet, il portiere belga è decisivo in un paio di occasioni nel primo tempo, non può nulla sulla mezza rovesciata di Magny, ma salva sul finale, ancora sul giovane attaccante. Segno positivo anche per Daniele Schaudone, il talento ex-Bari è decisivo con il suo gol del 2-1, un destro al volo che non lascia scampo a Di Gennaro, la sua prova è fatta anche di inserimenti e qualità a centrocampo. Una menzione va fatta anche per Alessandro Rosina, suo all-assist per il gol di Maniero, gara generosa e qualche occasione anche per lui. Difficile trovare segni negativi per gli etnei, inseriamo Gaston Sauro, il centrale argentino sostituiva schiavi al centro della difesa, ma nella sua zona arrivano alcuni pericoli ed il gol della Tina. C'è grande entusiasmo anche in casa Palermo, ancora un successo al Barbera per gli uomini di Beppe Iacchini, che hanno battuto per 2-1 anche il Genoa di Gasperini. Ci racconta tutto Daniele Di Frangia. Il Palermo di Beppe Iacchini festeggia ancora al Barbera, questa volta a cadere il Genoa dell'ex Gasperini, che dopo aver battuto il Parma cede ai Rosanero. Una vittoria meritata, decisa dalla doppietta del bulgaro Ciocev, talento pronto ad essere valorizzato in questo finale di stagione. Un successo costruito anche dal gioiellino Di Bala, questa volta non entrato nel tabellino per i gol, ma per gli assist. L'attaccante argentino, sempre al centro delle attenzioni dei grandi club, fa ormai reparto da solo e a trarne beneficio sono soprattutto i centrocampisti con i loro inserimenti. Ad assistere alla gara anche un gradito ospite, ovvero il Tata Martino, CT della nazionale Albi Celeste. Per il numero 9 Rosanero sembra ormai ad un passo la prima convocazione nella Selecione. Ma la partita di ieri ha visto anche dei pericoli per la porta di Sorrentino, oltre al gol di Iago Falche, si sono resi pericolosi Perotti e lo stesso Spagnolo. Nel finale di gara qualche episodio contestato con l'espulsione del tecnico genuano Gasperini per proteste. Guardando la classifica per Beppe Iachini e i suoi aumenta il rammarico per un posto in Europa League ormai complicato. A quota 41 i Rosanero dovrebbero compiere un miracolo per raggiungere il sesto posto, con qualche punto in più in graduatoria ed una squadra in forma come adesso l'obiettivo poteva essere raggiunto. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi a tra pochissimo. Restiamo sempre in Casa Palermo, andiamo a sentire le parole, la soddisfazione del tecnico Rosanero Beppe Iachini. Dopo Palermo Genoa il tecnico ha sottolineato l'importanza dell'atteggiamento tenuto dai suoi, che non è mutato neanche dopo aver raggiunto la salvezza. Lo ascoltiamo. Noi siamo già salvi da qualche partita, se vogliamo dirla tutta, per quello che è stato il nostro percorso di lavoro. Ma con lo spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite ritengo che la squadra continuerà e dovrà continuare a fare quello che ha fatto oggi e nelle scorse settimane, allenandosi sempre al massimo, andando in campo, onorando le partite e cercando di fare più punti possibile per quel percorso di lavoro e di mentalità che ci siamo costruiti in quest'anno e mezzo di lavoro insieme e che dobbiamo continuare a portare avanti. Noi continuiamo a giocare, a cercare di vincere le partite o fare punti attraverso il gioco, andando ad attaccare sempre in avanti, andandoci a muovere in una certa maniera, cercando di migliorare sotto l'aspetto realizzativo, perché abbiamo avuto sia sul 2-0 che poi sul 2-1 sono occasioni per chiudere la partita, oggi abbiamo colpito il diciottesimo legno della stagione ancora, quindi questo la dice lunga su quante volte andiamo alla conclusione e arriviamo verso la porta avversario. Dobbiamo migliorare in concretezza perché poi certe gare vanno chiuse, altrimenti rischi di tenere in gioco l'avversario e basta una mischia, un ampiazzato, anche e soprattutto quando hai giocatori veloci, rapidi e forti come quelli del Genoa, devi stare sempre ben attento, però la squadra penso che nel complesso abbia meritato per come ha giocato, per quello che ha espresso e la volontà di voler portare a casa i tre punti. Quello che chiedo ai suoi compagni, quello di interpretare a meglio le partite, di portare in campo quello che prepariamo durante la settimana, lui sta crescendo e migliorando ancora di più con convinzione, cercando di andarsi a inserire, andare a cercare il gol, quello che gli chiedo è con quei movimenti che sono determinanti per noi, per avere varietà di arrivo al gol e alla porta avversaria. Il risultato del 2-0, quello che dicevo all'intervallo della squadra, è il risultato più pericoloso perché pensi che la partita possa essere tranquilla, invece non è così perché basta un gol per poi andare in potenza e apprezzare gli altri per andare a rischiare il tutto per tutto. Quindi non dobbiamo chiuderla nel momento opportuno, andare sul 3-0 perché ne abbiamo avuto le possibilità anche nel secondo tempo. è chiaro sul 2-1 è venuto un attimino di timore, poi ci siamo aggiustati, abbiamo continuato a creare i presupposti per andare a fare anche il 3-1, purtroppo non ci siamo riusciti, pazienza, però nel complesso ritengo che la squadra poi per quello che ha fatto ha meritato. Dal calcio alla pallannuoto parliamo di Orizzonte Catania, sconfitta con onore ai rigori in gara 2 dei quarti di finale Scudetto, le etnee sono state battute dal Messina Water Polo ma hanno lottato davvero fino all'ultimo secondo. L'Orizzonte Catania esce a testa alta, anzi altissima, dalla partita contro il Messina Water Polo. Decisiva è stata la lotteria finale dei tiri di rigore che hanno decretato le feloritane come vincitrici in gara 2 dei quarti di finale Scudetto. Lo score finale dice 14-12 proprio per le messinesi che alla fine hanno esultato come se avessero vinto il tricolore, consapevoli di aver scampato un pericolo davvero grande. In vantaggio le padroni di casa verranno rimontate dalle ragazze di Martina Miceli che addirittura faranno tre gol di fila prima che il parziale si chiudesse 3-3. Le emozioni però erano solo iniziate perché dopo il rocambolesco 4-2 conquistato nella seconda frazione le penalitane si erano forse illuse di essere vicine alla chiusura della pratica. Ma il cuore dell'orizzonte batteva ancora ed abbastanza forte e lo 0-2 a favore della Catenesi lo testimoniava. Nel quarto tempo, iniziato bene con l'Etne subito in gol e le messinese scosse ed impaurite dal nuovo ribaltone messa a segno nella squadra ospite capace di dare spettacolo fino alla fine e di trovarsi avanti di due reti ad un minuto e 48 dal termine dell'incontro. Le padrone di casa sono poi riuscite a trovare il pareggio prima del fischio finale ma vedere le Catanesi in festa ancora prima di battere i rigori la dice lunga sulla consapevolezza di aver fatto qualcosa di strepitoso. Anche Martina Miceli, soddisfatta al termine dell'incontro convinta di aver creato un gruppo con basi solide è felice di aver concluso un anno nel migliore dei modi e di aver rispettato sino all'ultimo secondo quel nome cucito nel petto dal nome Orizzonte Catania. Con questo per adesso è tutto grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com grazie ancora per l'attenzione arrivederci